Un incendio divampato nel pomeriggio di giovedì 24 giugno intorno alle 15.30 in via Frassinetto a Ponte Canavese. Le fiamme si sono sviluppate nelle cantine, forse a causa di un cortocircuito ad un apparecchio elettrico. Le scale e gli alloggi si sono riempiti di fumo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'autoscala da Volpiano, la croce bianca del Canavese, la croce rossa di Castellamonte e i carabinieri. Le persone sono state fatte uscire dal condominio mentre i vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Quattro residenti sono stati accompagnati all'ospedale di Ivrea per una lieve intossicazione dovuta al fumo respirato. Gli accertamenti sulle cause sono in corso. Grazie per la visione!